e per magia bentornati a mille voci con il mago hares cosa ci propone quest'oggi ciao gianni è un piacere per me essere nuovamente ospite in questa splendida trasmissione saluto e ringrazio il bravissimo regista amico gianni turco che mi dà la possibilità di venirvi a trovare ogni tanto e ho pensato di andare veramente indietro di molti secoli perché sto per presentare per voi l'antichissimo mistero degli anelli magici amici il mago hares grazie a tutti 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 grazie a tutti